Mi chiamo Giorgia, faccio parte del Comitato Territoriale Arcilapila e ho lavorato all'interno del progetto Siforma come operatrice di sportello ai servizi di orientamento al territorio e informazione. Il mio intervento all'interno dei CIPIA della Regione a Cruzzo si è svolto in tre momenti principali, uno di presentazione della mia figura e dello sportello, un secondo momento di raccolta dei bisogni e un terzo momento dove era richiesto di restituzione dei bisogni emersi nei colloqui individuali. Questo tipo di intervento ha avuto come obiettivo l'informazione e un orientamento proprio ai servizi che sono presenti sul territorio, sia per quanto riguarda l'aspetto legale, quindi come rinnovare ad esempio un permesso di soggiorno, quali documenti servono per richiedere la cittadinanza, oppure anche un orientamento al lavoro, quindi per l'importanza del curriculum vitae, quali sono le agenzie interinarie, perché possiamo rivolgerci al centro per l'impiego. Quanto è importante promuovere dei servizi complementari per il processo di integrazione di questi ragazzi? Io credo che sia molto importante, soprattutto perché i ragazzi nel momento in cui arrivano qui spesso sono disorientati e non hanno delle indicazioni giuste ed esatte su dove poter chiedere delle agevolazioni, degli aiuti, dei sussidi o semplicemente un'informazione. Quindi andare all'interno di CPA, promuovere questo sportello, ma con lo scopo di dare delle indicazioni, a mio parere è risultato molto utile.